Mi rendo conto che sono molto agitata e sono sicura che c'è qualcosa di grave che mi gira intorno e non ne ho la minima idea. Mi creda che io sono una persona molto pulita e trasparente. Io le voglio proprio sottolineare che quello che interessa a me da lei è capire perché qualcuno vogliono farmi del male. Io voglio una vita serena. Forse tutto quello che mi è accaduto è che io ho pensato in piedi a qualcuno. Voglio solo vivere e mi creda io sono terrorizzata a morte e io non so se sono in grado di sopportare emotivamente questa cosa. Allora, Edzio Denti poi ascolta anche la seconda parte di questa telefonata. Mandiamola in onda. Io ho paura e ne ho ben diritto. Adesso ero così felice tra l'altro che ho trovato il mio compagno una persona splendida perché se non ci fosse stata c***a io oggi non sarei più qui. Le confesso che sono estremamente impaurita e le ripeto che il mio motivo per cui l'ho cercata non è un motivo, un movente economico. Io voglio solo avere una serenità di non avere alcun più dubbio che qualcuno voglia farmi del male. Io non ce la faccio più. Il fatto di essermi rivolta a lei è semplicemente perché so che non c'erano altre strade se non che qualcun altro mi facesse del male. Io spero che lei comprenda tutte le mie difficoltà e il mio stato d'animo. Però io ho paura. Mi creda. Io ho paura. Allora ascoltare questa telefonata e poi sapere che Greta è scomparsa nel nulla con la sua automobile bianca veramente fa impressione. Fa impressione perché forse nell'ultimo periodo nessuno dava tanta retta a Greta perché Greta stava passando un momento difficile ma forse stava passando un momento difficile proprio per questa paura che ha trasmesso con quest'ansia in questo messaggio nella segreteria di un investigatore privato. Una persona che lei non conosceva, che ha visto in televisione, a cui si voleva affidare e poi inizia il dialogo tra Ezio Denti e Greta. Allora siamo a un mese prima della scomparsa di Greta. Adesso poi ci racconterà bene tutto perché ci sono delle novità, degli aggiornamenti importantissimi con il nostro Edoardo Lucarelli. Allora, lei sente questo messaggio in segreteria e si spaventa. Ezio Denti. Sì, diciamo più che spaventarmi è chiaramente un messaggio che ti fa pensare un po' nel senso che credi che possa essere una donna che ha qualche problema esistenziale, no? Perché è uno che si presenta e ti dice mi stanno per ammazzare e in modo particolare si rivolge a determinati soggetti in ambito familiare e la cosa ti lascia un po' obbasito. Però è iniziata proprio un'indagine nei confronti di queste persone e senza che portasse a nulla. Ma quello che oggi noi chiediamo di questa donna, che la stiamo descrivendo come una donna malata, realmente non è una donna malata. È una donna che ha avuto dei problemi. No, no, fisicamente malata, non psicologicamente. Ecco, però quando vediamo ad esempio quel video dove lei usa quegli atteggiamenti un po' spastici, usiamo questo termine, è un video che è stato girato direttamente dal fratello dove lei praticamente simula quella che potrebbe essere il suo stato. Quindi è una donna che fondamentalmente ha bisogno di stare in compagnia di qualcuno, è una donna che ha problemi nello stare sola, ma è una donna che ha dimostrato una grande forza che era quella di recarsi a Porto Tolle, non vendere più quell'immobile, per vivere lì, quindi per cercarsi un lavoro. E non è vero che non avesse una condizione economica tale da non poter sopravvivere. Questo è importante che si faccia sapere. Allora, andiamo per ordine. Il video non è quello, è il video in cui lei sta in una cucina e si muove. Perché dici che simula? Perché simula? Perché quel video lì, io l'ho visto, me l'ha fatto vedere anche lei al nostro incontro, ed era un video che era simulato, nel senso, io prima ero così, mi dice, e io chiedo, ma quel video è una ripresa che ti è stata fatta in quelle condizioni? No, me la sono fatta fare da mio fratello, questa ripresa. Quindi, ero una persona che non stava assolutamente male. Guarda, io ho trascorso con lei quasi un'ora, forse un'ora e mezza in compagnia, una donna tranquillissima, gioiosa, non aveva nessun tipo di problema. Oggi, chiaramente, che fine ha fatto questa donna? Ce lo chiediamo tutti, perché non è solo sparita lei, ma è sparita anche una vettura. E se pensiamo che quella vettura sia finita in un fiume, con le secche che ci sono state in questi giorni, direi che la macchina, bene o male, sarebbe stata fatta. Allora, fra un po' vorremmo vedere quel video, che lo stiamo caricando e preparando, un video in cui lei si muove in maniera strana, sicuramente si vede che c'è una persona che non sta bene. Ora, il nostro Edoardo Lucarelli. Edoardo, in questa vicenda ci sono importanti date, ok? Date e orari. Testimonianze. Concentrate in pochissimi giorni. Adesso mandiamo questo servizio che tu hai realizzato, così raccontiamo. Solo quello che noi per ora sappiamo di Greta. Poi ci sono stati degli avvistamenti, non era nulla di reale. Sappiamo solo che Greta è scomparsa. Non si sa nulla di lei e nessuno, né la famiglia, né il fidanzato, né chi sta seguendo questo caso, pensa ad un allontanamento volontario. Troppo tutti stanno pensando che a Greta qualcuno abbia davvero fatto del male. E quel messaggio che noi abbiamo sentito prima, in segreteria, fosse reale. non fosse frutto delle sue ansie, delle sue paure, no. Ma quella paura fosse davvero reale. Probabilmente c'era qualcuno che la stava minacciando, di cui lei non parlava, non parlava con nessuno, con gli amici, con la famiglia, col fidanzato. Oppure c'era qualcosa che lei nascondeva proprio all'interno delle trame familiari o delle persone che dovevano volerle bene, che le stavano accanto. Questo non lo sappiamo. Mandiamo questo filmato. Io sono teorizzata a morte e io non so se sono in grado di sopportare emotivamente questa cosa. Io ho paura. Mi creda, io ho paura. Secondo il racconto dell'amico Andrea, intorno alle due del mattino, Greta lascia l'abitazione dell'uomo dopo averlo accompagnato. Alle 3.06 dal suo cellulare parte un messaggio affettuoso al fidanzato Gabriele. Poi, sono le 11, Sandro, il vicino, la vede uscire. Ha aperto la porta di casa e si è affacciata. Io ero risalto nei suoi gradini della chiesa. L'ho salutata. Mi sembrava che avesse un zainetto sulle spalle. Ho salito sulla macchina qua ed è andata via. Lei spazza in giardino, lui si avvicina. Lei e la moglie di Sandro la vicina. Lui Gabriele, il fidanzato. Buongiorno, ha visto Greta? È la domanda che, secondo il racconto della donna, e senza qualificarsi né aggiungere altro le rivolge un pagno della spray a fico. Incassato il diniego, poi, si allontana. La vicina è sicura perché c'era la messa nella chiesa adiacente. Era mattina, intorno alle 10, ed era domenica. Diversa la versione di lui. Quando fa la denuncia di scomparsa, dichiara è domenica, alle 18.30 parto, arrivo a Cattiepolo verso le 22. La sera dunque, non la mattina. Chi ricorda male tra loro? ore 10.30 parto, ore 10.00 ci sono tutti, tranne Greta. Per la terza volta è attesa lì dal notaio per perfezionare la vendita della casa ereditata dal nonno. Lei non c'è ed ancora oggi la sua assenza graffia come quella voce che scaldava il cuore di chi le voleva bene. Allora, è veramente un mistero, Edoardo. Parlavamo di date, di orari, perché ad oggi, ad oggi, l'unica cosa che veramente non torna è il racconto nella denuncia ai carabinieri di scomparsa, lunga denuncia, del fidanzato che dà degli orari e un giorno che non corrispondono alla verità dei fatti. Perché mi prendo la responsabilità di dire questo? Perché noi siamo andati a chiedere chi avesse visto il fidanzato a che ora e che giorno fosse stato lì il fidanzato e i racconti di più persone lì che conoscevano Greta e conoscevano quella situazione perché abitano lì poi c'era la messa la domenica mattina me lo ricordo bene il racconto non corrispondono le testimonianze non corrispondono per niente. Allora Edoardo facci entrare in questa storia e in questo mistero. Sì è un mistero dici bene perché sono 15 mesi che Greta Spreafico è scomparsa da qui. Siamo a Cattiepolo questa è una frazione del grande comune di Portotolle e questa l'abbiamo vista molte volte ma vale la pena rivederla è la casa la casa contesa perché è la casa che lei avrebbe venduto di lì a pochissimi giorni il 6 giugno del 2022 c'era l'appuntamento l'appuntamento qui a poche centinaia di metri dal notaio per perfezionare il rogito questa vendita altri 80 mila euro per lei l'avrebbe venduta al cugino 10 mila euro nell'ottobre precedente le aveva ricevuti come anticipo e allora perché da questa casa e perché orari che tornano non tornano perché Greta questo l'abbiamo anche riassunto in questo servizio da questa abitazione esce esce intorno alle 11 del 4 del 4 del sabato 4 la vede chi? la vede proprio il vicino di casa Sandro che è qui su queste scalette di questa chiesa questa proprio accanto all'abitazione della stessa Greta e allora che cosa che cosa accade? accade che Greta scende prende la sua macchina e poi va via prende la strada principale io nel frattempo non riesco a sentirvi ma vado avanti prende la sua macchina e va via e si allontana eccoci e si allontana che cosa accade? accade che da quel momento in poi lei non andrà il lunedì successivo ovviamente dal notaio per firmare questo atto ma ci saranno poi altri avvistamenti un'altra persona la vedrà un'ora e mezza dopo rispetto a quando è uscita ma sempre qui a Cattiepolo fatto sta che da quel momento in poi diventa un mistero un mistero all'interno del quale si innestano alcune testimonianze una ve l'abbiamo riportata è quella del vicino di casa un'altra è quella della moglie che il giorno successivo ovvero quello a cui facevi riferimento cioè la domenica 5 siccome in questa chiesa c'è una funzione religiosa ed è una messa lei dice sono sicura che fosse quella domenica e viene una persona che mi chiede di Greta poi si ricostruirà essere appunto il fidanzato questa discrepanza esiste tra questa testimonianza della vicina e quanto invece ai carabinieri di Turate lo stesso fidanzato dirà dicendo di essere arrivato qui sì la domenica ma alle 22 e non invece alle 11 del mattino partendo da Erba alle 6 e mezza alle 18 e 30 dice di essere arrivato qui alle 22 questa è una discrepanza che lui da quello che abbiamo saputo nei mesi successivi sarebbe andato a chiarire al pubblico ministero ricordiamo sempre Eleonora che c'è un indagato in questa vicenda ma c'è un riservo strettissimo e non si sa chi sia sappiamo che lui avrebbe non sappiamo chi è questo indagato però un'indagine aperta ovviamente c'è perché come dicevate è scomparsa Greta è scomparsa la sua piccola macchina l'utilitaria che aveva e poi ci sono tutta una serie di altri elementi che fanno pensare ovviamente che questa donna in realtà non volesse allontanarsi volontariamente lo dicevate stava cercando un lavoro aveva chiesto un lavoro sulla spiaggia qui di barricata a pochi chilometri da qui da Cattiepolo aveva una progettualità e allora dove è finita Greta chi l'ha incontrata e se qualcosa è successo di male a questa donna chi l'ha fatta sparire esatto e questa testimonianza di Sandro dice mia moglie lo ha visto domenica mattina lui invece nella denuncia di scomparsa Ezio aveva detto che era andato lì il sabato era andato lì il sabato che aveva dormito lì il giorno stesso ma c'è anche un'incongruenza perché lui lunedì si presenta dal notaio quindi è ovvio che è stato lì sabato domenica e lunedì quindi c'è una stranezza ci chiediamo dove è dormito ancora in macchina ma lui nella denuncia di scomparsa cosa racconta? racconta di essere arrivato lì il sabato di essere stato lì tutta la notte e poi di essere ritornato a casa la notte del sabato la notte del sabato invece la testimonianza che noi abbiamo racconta che lui è stato lì la domenica mattina sentite particolare che la domenica verso le dieci e mezza c'è l'entrata in chiesa per la messa e quindi quando lei ha visto il fidanzato era orario di entrata alla messa quindi il fidanzato si è avvicinato lì alla vostra casa e che cosa ha chiesto a tua moglie? ha chiesto semplicemente se aveva visto Greta si è qualificata ha detto no 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 ha chiesto se aveva visto Greta ma non è andato oltre con i discorsi come mia moglie ha detto di no lui ha preso su e è andato via e poi c'è il particolare di questo biglietto affisso sulla porta ce lo racconti lui che cosa fa? no non so il biglietto io l'ho visto il lunedì mattina quindi il giorno 6 ho fatto caso che c'era un biglietto attaccato alla porta non sono cosa c'era scritto? non sono andato a leggerlo perché gli investigatori esatto lo sopputo dopo quando sono andato in procura che mi hanno chiesto se avevo visto il biglietto e mi hanno fatto vedere la foto però Greta dove sei? che fine hai fatto? lui aveva lasciato questo biglietto lì sulla porta? una cosa una cosa del genere ti sto cercando fatti viva se ci trovi ecco perché in una denuncia di scomparsa di una donna perché una cosa gravissima ti scompara la tua fidanzata non sai dove è finita c'è una situazione già delicata di per sé perché raccontare una presunta bugia dico presunta perché ripeto ve l'abbiamo mostrato il perché lì c'era la domenica mattina loro se lo ricordano bene perché la domenica mattina c'è la messa lì vicino alla chiesa dove ti trovi tu Edoardo no? per cui c'è la messa lui era qua domenica mattina perché raccontare che lui la sera prima se ne sarebbe andato da lì? questa vicenda ha tantissimi punti oscuri io da quello che ho capito dall'attività investigativa di accidenti adesso arrivo Edoardo non erano emersi profili riconducibili alle paure di Greta questo a mio avviso non è stato fatto una cosa fondamentale cioè l'autopsia psicologica che attraverso una ricostruzione al ritroso degli ultimi sei mesi di vita della vittima della presunta vittima riesce ad identificare quelli che erano i rapporti le persone vicine che cosa può essere successo e lì è la risposta chiaramente se qualcuno mente è perché qualcosa ha da nascondere certo Barbara De Rossi buongiorno Barbara Eleonora io sto pensando alle parole proprio di Greta di Greta Greta ha definito il suo fidanzato un splendido fidanzato lasciando il messaggio a denti ed era un mese prima della sua scomparsa credo vero? allora come si esprime la paura cioè lei ha mai evidenziato con denti ad esempio perché aveva paura riceveva dei messaggi riceveva delle minacce cioè la sua paura no? come si è espressa? perché se noi andiamo ad indagare e a sospettare del fidanzato avendo avuto una descrizione da parte di lei anche della sua amica perché io mi ricordo che voi avete intervistato anche l'amica di Greta che parlava che ha riferito che Greta parlava bene però ad esempio i familiari te lo dico perché abbiamo avuto più volte la possibilità di parlare con loro danno una versione totalmente diversa da quella dell'amica o di Greta ma anche di Greta ma perché mentire? cioè se lei ha chiesto aiuto a denti e ha fatto una descrizione del suo problema e ha lasciato questo messaggio perché descrivere il fidanzato ha trovato anche uno splendido fidanzato supportato dalla testimonianza anche dell'amica questo non lo sappiamo e però ha chiesto aiuto a denti perché l'amica stessa non so mi ricordo chi ha detto che lei era guarita ad esempio dall'intossicazione che aveva avuto quindi forse quella è anche una pista da abbandonare no? nel senso che magari pensare a una ritorsione quindi è strano non so cosa abbia detto a Ezio Denti perché anche il nostro Edoardo Lucarelli dice il fidanzato perché abbiamo detto prima una scorrettezza Ezio non dice di essere arrivato sabato e di essere andato via sabato notte dice di essere arrivato domenica sera nella denuncia di scomparsa invece è arrivato domenica sera mentre i vicini l'hanno visto la domenica mattina è questo il punto Eleonora tu hai perfettamente ragione perché i vicini mentre sul fidanzato abbiamo come dire tante ombre i vicini con questa storia della messa sono assolutamente credibili è da qui che dobbiamo ripartire e quando Greta si sente male e ha dei problemi non sembra adesso poi qui abbiamo denti no? cioè non sembra averli nei confronti del fidanzato ma nei confronti della cerchia parentale su cui lei aveva dei dubbi e poi sembra che ci sia qualcuno che le voglia impedire di andare dal notaio e di fare questa vendita e questa è fondamentale il lato psicologico è questa la cosa fondamentale è questa allora scusami un attimo Edoardo prima di lasciare la pubblicità fra poco fra l'altro in seconda parte parleremo di truffe truffe di anziani truffe amorose abbiamo due storie incredibili credetemi e siamo contenti di raccontarle anche per dare un servizio al nostro pubblico perché purtroppo sono cose che possono capitare a tutti di che cosa era affetta lei Greta quel video ce l'abbiamo quel video dove si muove questo siamo riusciti a caricarlo questo è uno dei punti controversi sì dimmi è uno dei punti dei punti più controversi l'onora perché da quello che invece Momo il fratello ci ha detto quel video sarebbe del 2020 cioè quando lei era malata diciamo sostanzialmente quando non stava bene si dice avvelenamento da metalli pesanti per questo poi il fidanzato l'avrebbe portata in Calabria dal dottor Montilla a curarsi quindi sarebbe precedente così il fidanzato dice o poi dall'altra parte invece c'è chi sostiene così come sosteneva il fratello Momo e la famiglia che invece le problematiche di Greta fossero di carattere psicologico psichiatrico quindi questa è stata la grande diatriba soprattutto legata al fatto che Greta aveva sospeso dei farmaci che invece quindi la mamma e il fratello non volevano sospendesse quindi questo è un punto davvero nodale di questa vicenda perché Greta e i rapporti familiari di Greta sono piuttosto tesi un'altra cosa importante prima di lasciarvi perché sono importanti quelle date sabato e domenica perché il fidanzato nella denuncia di scomparsa dice sabato ci dovevamo incontrare sabato mattina con Greta a Verona a metà strada ci dovevamo vedere lei mi ha detto non posso venire da te lui racconta è stata molto misteriosa perché è una cosa importante da fare e allora dice vengo io direttamente da te quindi Gabriele dice lei non arriva da me il sabato e a quel punto io la domenica alle 18.30 visto che non la sento più non la vedo più decido di venire qui a cercare questa è la sua versione grazie Edoardo allora vediamo Greta qui sta in questo video sta dal medico era in difficoltà stava scionando di curarsi può creare questo tipo di avvelenamento che io prima di questa storia non avevo mai sentito parlare può creare delle allucinazioni può creare l'ansia la paura di chiamare un investigatore privato e di dirgli qualcuno mi ha pestato i piedi qualcuno vuole farmi del male o no perché questo è un punto importante allora stiamo parlando stiamo parlando da quanto ci risulta di intossicazione da metalli pesanti e quindi posso spiegare in che cosa consiste noi il nostro organismo ha necessità di alcuni metalli perché ad esempio il calcio delle ossa è necessario per la struttura corporea ma ci sono dei metalli che sono assolutamente strani al nostro metabolismo ad esempio il piombo che sappiamo essere molto tossico prova ne sia che una delle ragioni che vengono sollevate per il crollo della civiltà romana fu l'abuso di piombo perché si utilizzavano delle coppe di piombo e le condutture erano in piombo e questo portava ad un fenomeno chiamato il saturnismo che era una compromissione generale delle funzioni biologiche quindi l'avvelenamento da metalli pesanti è una forma di patologia aspecifica cioè dipende da quale metallo è da come lo hai assorbito bevendolo nell'acqua sciolto nell'acqua nel cibo o aspirato perché quello che è stato ipotizzato è che lei lavorando all'interno di un'azienda di prodotti chimici potesse averlo aspirato questo già questa però è una cosa un pochino che andrebbe indagata cioè perché soltanto lei hanno fatto una statistica hanno fatto una ricerca come mai era l'unico soggetto aspetto da questa patologia cioè è chiaro che qua poi sconfiniamo nel complottismo ma visto che l'epilogo di questa storia è così surreale che ci potesse essere invece l'ho letto è stato ipotizzato qualcuno che abbia attentato alla sua integrità fisica attraverso un avvelenamento progressivo questo non credo che sia ancora stata esclusa come ipotesi no ma spero che venga anche presa se non è stata presa al vaglio gli inquirenti ci auguriamo che invece inizino a e per concludere il discorso lei si era curata potrebbe essere potrebbe essere un'altra pista e lei lo sospettava voglio concludere il discorso su questo si era curata perché ci sono dei farmaci che si chiamano chelanti che cosa fanno prendono e si mangiano il metallo pesante e lo rendono solubile e quindi può essere espulso con le urine ma questo non implica che non ci siano dei danni permanenti anche nel momento in cui la causa sia stata rimosso allora grazie Edoardo noi ci occuperemo di questo caso nel corso di queste nostre puntate